Sheila! Eeeh, buongiorno! Stava dormendo? Vieni qua! Buongiorno, io sono Bartolo e con me c'è Sheila per SheilaTheDog.com Oggi abbiamo ricevuto una sorpresa di Natale un pacco dal produttore di crocchette preferito di Sheila che è Barkin di solito abbiamo i pacconi di crocchette e invece c'è arrivato questo pacchettino che non sappiamo cosa sia però siamo molto curiosi è leggero cosa c'è secondo te qua? cosa c'è secondo te qua? vediamo un po' eeeh apriamo qui! non me l'aspettavo questa eh? non me l'aspettavo io pensavo che ci fossero delle crocchette invece guarda un po' cos'è? è tu questo eh? ma che carino guarda qua apriamo vediamo ma questo io non me l'aspettavo io pensavo che fossero delle crocchette senti com'è bello senti take it take it take it ma che carino facciamo vedere com'è guardate che bella cosa che ci hanno portato i Babbi Natale di Barkin ringraziamo Sara che è la nostra consulente Alessia che è la veterinaria Denise del marketing tutte tutte le ragazze tutti i ragazzi di Barkin che non non ci siamo mai visti però ti conoscono parliamo di te guarda come se ne hai già impossessata guardate questo grazie Barkin per questo bel regalo e però ci sono anche delle altre cose aspettate perché non ci sono solo quelle abbiamo andò un po' queste sono crocchette di salmone crisps però ci sono anche delle altre cose io vedo questo credo non so se è per me se mi hanno dato qualcosa qua sono Cookies Cookies Testino Newman who love dogs ah vediamo apriamo vediamo non so se siano per me o per te questi vediamo un po' vediamo se sono per me o per te questi ma io non saprei quasi vai che dici ma no questi sono per te come sono buoni questi sono tipo cioccolatini poi vediamo ah questo lo conosciamo Italian beef anche ma guarda che carini che eh non finisce più un altro Italian beef e poi c'è qualcos'altro vediamo questo cos'è ah queste sono cose da da masticare aspetta qua un altro patè italiano un altro ma guarda quanta roba e poi c'è anche una letterina vediamo il regalo più bello è far parte di una famiglia Barthin ringraziamo Barthin facciamo anche un po' di pubblicità ecco mi fai vedere il pupazzo? sta ruggendo mi fai vedere il pupazzo? mi sembra che questo sia candidato ad essere il nuovo giocatore preferito di Sheila allora grazie Barthin grazie per questo per questi fantastici regali inaspettati a tutto il pubblico che ci segue vi consiglio prodotti Barthin se volete vi lasciamo un link in descrizione e questo è tutto buon Natale a tutti da Bartolo e Sheila per SheilaDog.com e alla prossima no mi sono dimenticato Sheila ti è piaciuto il regalo di Barthin? bellissimo